Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA, con questo terzo appuntamento di Remember Me, episodio 2, proseguiamo la nostra avventura con la Nilim. Eccoci qua, dopo aver preso il nostro passaggio e aver remicciato i ricordi di Olga. Bene, ciao allora, mi arrancio da solo. Sì, va bene. Chi è? L'architetto più famoso di Neoparigia. Il suo cervello contiene ogni più minuto particolare di ogni edificio che ha progettato. Come la trovo? Il tuo contatto si chiama Bad Request. Ti aspetta all'ultimo piano della rotonda di Saint-Michel. Bene, andiamo ad incontrare Patrick. Cosa sono sti cosi? Qua c'è qualcosa? Eh, eh, no. Cosa sono sti sembrano lo boh? Cosa è? Vabbè. Uulala. Leo Parigi! Salve! e se ne frega ciao posso vedere il tuo pin? no eh ho quinto Si sente bene? Devo chiamare il pronto soccorso? No, no, no. In caso voglio inoltrare un reclamo, i miei dati sono stati salvati automaticamente dal suo terminale sense. Buona giornata. Probe da matti. Ah, finalmente! Sono 20 minuti che aspetto. Sembra tipo io robot. Con me è Natale tutti i giorni. Gachi per terra? Ti metto le manette. Mi guardi storto? Ti scelgo e ti metto le manette. Nessuno mi chiama. Le manette? Eh, contento tu. Questo è il suo indirizzo? Sì, sì, credo di sì. Grazie. Al vostro servizio. Se siete soggetti ad accesso a un mnemonico intermittente, attivate la vostra aug bussola prima di uscire. Un attimo, ce n'è un'altra. Signorina, tutto bene? Sembrate persi. È lei, la cacciatrice di memoria ricercata. Oh, oh. Qui pattuglia 17. Rapporto. Fuggesca identificata. Recupero in corso. Sì, certo. Fatevi sotto. Femminucce. Che vuole questo? Oh, patin. Patadam. Che pale, sti tutorial. Berset. Sì, grazie. Eh, grazie. Grazie. Ebbá! si lavora meglio dall'alto eh ti stava tornando i vecchi stetti si si forza sabre corpo di polizia privato finanziato da Memorizer servizio d'ordine con il sorriso oh questa nuova roba è disponibile che palle ops che cazzo devo andare sennò non sparisce più sta roba aspettate che devo cercare di fare no ma come cazzo no che cazzo ho fatto via mmm non vada via il culo ecco però mi manca un pezzo eccoci qua scusate per prima ma dovevo configurare un po' i presently che è meglio non mi troverete e oh le mammo lette Oddio, furia senza, ok Che rottura, si ho capito, cazzo Eeeh, quanti canto siete? Porca troia Cos'è? Ah, raffreddamento, ok, ok, ok Eh, si, vaffanculo Dove ti metto? Ti metto Oh Qui Ok Ok E vai Ah Mammo letto Eh Pronto Oh Adesso vuole pisar due Di Tata tam Oh 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 Faccioni Oh 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 Il cartellone Oh Ok Ok Ehm Ok Ehm 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 Oh O Ehm 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 Oh qua lì la ecco c'è la corrente c'è la corrente c'è la corrente via 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 uh uh pop 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 via 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 cosa è sto coso? oh figo hai quasi raggiunto la rotonda e la forza sabre ha perso le tue tracce ottimo lavoro se lo dici tu cos'è finito a sto posto no big charlie e le sue grandi idee vuole l'utopia ma crea solo l'inferno ha cominciato tutto con quella maledetta rete sansen e guarda che cosa è diventata è il capo di memorize memorize lui è il genio creatore la star capricciosa che armeggia nella sua torre d'avorio il capo di memorize è scilla cartier wells sua moglie un nome due teste mille ragioni per essere inquieti memopolis bravo eccolo qua il nostro patrick bello tagli di capelli bello bravo neil in la cacciatrice sono il tuo più grande ammiratore grazie a piacere ho già esplorato percorso non è la prima volta che faccio shopping nel territorio dei ricchi cerco l'ufficio dell'architetto è tutto qui dentro un'ora fa ho memorizzato la traiettoria ideale per evitare i droni di sorveglianza devi solo prenderla è un grandissimo onore farsi aprire da te è come ricevere un autografo a volte rubo i riguardi fatto hai preso tutto si segui il mio passato un percorso fatto di remanescenze che ti aiuterà a superare i droni che proteggono la confortezza fino a raggiungere Kaori Sheldon lungo il tragitto ho ancorato delle memo boi che ti indicheranno quando attivare le mie remanescenze bene ragazzi questo gameplay finisce qui ciao ciao ai prossimi video per un attimo ho pensato che avresti cancellato il nostro incontro a ricordarci presto il mio più grande ammiratore è lui